Sarà il profumo di sostenibilità la parola d'ordine della 54esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna che celebra l'incontrastato re della tavola dal 27 ottobre al 10 novembre del 2019. Novità, ospiti e chef stellati della nuova edizione sono stati presentati a Roma al pubblico e alla stampa in occasione di una serata di gala al Pio Sodalizio dei Piceni dal titolo Tartufo Bianco nel cuore di Roma con volti noti della televisione italiana. Abbiamo avuto ospiti politici, abbiamo avuto varie rappresentanze territoriali eliti in Parlamento dai 5 Stelle al PD e non solo. Sono contento di questa esperienza perché ci ha permesso di far capire che quest'anno la 54esima Fiera sposerà l'eccellenza e la qualità. Abbiamo la fortuna di ospitare le eccellenze una di queste è Neri Marco Re, poi il 3 avremo la presenza dell'imprenditore stilista Brunello Cucinelli anche questo è un'eccellenza italiana, saranno presenti in fiera, faranno un incontro a teatro quindi ci sarà un talk show sia con Neri Marco Re sia con Brunello Cucinelli. Poi avremo la presenza del chef Mauro Ugliassi che quest'anno ha ricevuto la terza stella Michelin, ci onorerà con un cooking show. Non vorrei dimenticare il premio Mattei, è un premio che va a riconoscere quello che fa un imprenditore per il territorio, quello che dà l'imprenditore al territorio. Quest'anno abbiamo individuato una figura molto molto importante che è di Fano ed è il titolare della Profilgas Giancarlo Paci. È stato il sindaco Luca Lisi a fare gli onori di casa e ad accogliere più di 100 invitati tra VIP, autorità di governo, politici locali e dei più importanti giornalisti di quotidiane riviste del settore insieme ai direttori e agli autori dei principali programmi dedicati al cibo e alla cultura agroalimentare di Rai Sky e Mediaset. Il sindaco Lisi ha anche incontrato e colto l'occasione per invitare ufficialmente alla manifestazione Bruno Vesp e la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova che lo ha ricevuto al ministero delle politiche agricole e forestali. Quest'anno la presenza di queste figure molto importanti in Acqualagna ci permette di consegnare la Russella d'Oro a due di loro che sono l'imprenditore Brunello Cucinelli e lo chef Mauro Ugliassi.